Il primo innesto è arrivato Lorenzo Valò, primo innesto, una proprietà giovane, un acquisto, il primo giovane. Sì, un acquisto giovane, sulla falsa di riga delle parole che ci siamo dette anche ieri, per un progetto che è in partenza. Non a caso un giovane per questa piazza che in questi anni di giovani e di talenti ne ha sfornati e ne ha tirati fuori tantissimo, speriamo che sia di buon auspicio per il nostro Lorenzo e per l'Ascoli come società. È l'inizio di una collaborazione intensa con la Roma? Collaborazione intensa, il nostro DS cerca, scova calciatori su tutto il panorama italiano, che sia la Roma o qualsiasi altra società, a noi non può fare altro piacere che società importanti come Roma scelgano l'Ascoli come piazza per far maturare i loro giovani e per farli crescere. Ho avuto varie richieste da varie società in Serie B, poi il mio procuratore e la società mi hanno indicato questa società e ho dato retta a loro. Spiegaci quali sono le tue caratteristiche tecniche, sia il tuo procuratore che il DS Tesoro ti hanno paragonato a un piccolo Florenzi. Sì, mi hanno paragonato a un piccolo Florenzi Mancino perché mi posso esprimere in vari ruoli, sono un giocatore molto duttile e negli anni passati ho giocato sia a centrocampo che esterno di difeso e esterno di attacco. Nel 3-5-2 o 3-4-3 di Vivarini quindi quinto o quarto di sinistra o mezza alla sinistra? Sì, secondo me sì, però dove poi il mister mi reputa che gioco meglio io mi adatto e gioco. Che tipo di esperienze hai maturato in una primavera così importante come quella della Roma in questi anni? Ho avuto varie esperienze anche in ambito internazionale, secondo me nel piccolo mi hanno formato molto. Certo non è paragonabile avere un'esperienza in un campionato come questo, però si cresce così, ora vedrò di dare il meglio anche qui. Che impressione ti ha fatto il mister Vivarini e in generale che impressione ti hanno fatto i nuovi compagni di squadra in queste prime ore? Ho avuto una bella impressione sia del mister Vivarini che dei compagni, è un gruppo molto simpatico che mi ha colto bene e spero di ripagarli sul campo. Quali sono i tuoi obiettivi quest'anno sia a livello personale che di squadra? A livello personale individuale spero di esprimermi al meglio e entrare a far parte di questa rosa e cercare di aiutarla. A livello di squadra sono arrivato oggi ancora non so bene, però speriamo di partire con il piede giusto e fare il meglio possibile, poi il campo parlerà. Hai parlato con Cristian Durso che l'anno scorso ha fatto molto bene qui da Asquini? Non ci ho parlato perché non ci sono molto legato, però lo conosco, mi ci sono allenato qualche volta e me l'hanno detto che mi ha fatto bene, quindi spero di fare come lui. Avranno anche detto che qui c'è una tifoseria molto calda e appassionata, un motivo in più per essere responsabilizzati e dare sempre il massimo in campo, questo chiedono i tifosi bianconeri. Sì, mi hanno detto che se davo il 100% alla mia vecchia società dovrei dare il 300% ed è quello che farò e è quello che ambisco a fare. Il tuo cognome c'è qualcosa di particolare, c'è qualche riminiscenza francese? Mi hanno detto che tu parli italiano e tu sei italiano a tutti gli effetti. Siamo tutti italiani, il cognome sappiamo che è francese ma non si è trasmessa la provenienza. Grazie a tutti.